Cerchiamo di vedere in breve quali sono i limiti e qual è la grandezza del contributo teoretico che ci ha lasciato Immanuel Kant. Limiti e grandezze del pensiero kantiano. Kant forse più di qualsiasi altro metafisico ha dentro di sé questi due aspetti, due facce della stessa medaglia. Non puoi vedere la grandezza di Kant se non ne vedi i limiti, non puoi vedere i limiti di Kant se non ne vedi la grandezza. Kant è il filosofo di confine tra lo scetticismo e la metafisica. Per rifondare la metafisica si è passati per Kant, ma al contempo per superare lo scetticismo ci si è dovuti lasciare alle spalle Kant. Kant è su questo confine tra la salvezza e la perdizione. Questa quantomeno è la lettura che ormai in Italia forse è diventata quasi la lettura ortodossa che un certo egelismo ha fatto di Kant. Infatti Kant viene intesa da un certo egelismo, un certo egelismo che in Italia si è immancabilmente mescolato con l'ortodossia atomista. Ebbene, questo egelismo intende Kant come un momento negativo nella storia della metafisica, come antitesi metafisica. Da questa prospettiva egeliana Kant, in quanto momento antitetico, negativo all'interno della storia della metafisica, è un antidialettico. Già che, entro la prospettiva dell'eghelismo, il momento sintetico, positivo della metafisica è un momento eminentemente dialettico. Kant, in quanto antimetafisico, è da questa prospettiva egeliana un antidialettico. Cosa significa dialettica? Dialettica significa unione di positivo e negativo, unione di identico e non identico, unione di essenza ed esistenza, di pensiero ed essere, di linguaggio e realtà. L'antidialettico, e in questo contesto egeliano Kant è il tipico esempio di antidialettica, ebbene, l'antidialettico, cosa fa? Separerà pensiero ed essere, linguaggio e realtà, essenza ed esistenza. Questa lettura egeliana che vede in Kant un antidialettico, un momento negativo all'interno dello sviluppo della metafisica, è una lettura che in Italia ha dato, per esempio, Barzaghi e che prima di Barzaghi ha dato Gustavo Bontadini. Bontadini, in un saggio da un titolo piuttosto esplicativo, La deviazione metafisica, sostiene a tal proposito che la filosofia moderna, della quale Kant è massima incarnazione, è, scrive Bontadini, un ciclo che sopprime se stesso, che, per così dire, si fa dimenticare in quanto la sua conclusione è la soppressione del suo presupposto di partenza. Cosa vuol dire qui Bontadini? Che la metafisica moderna, in quanto momento negativo, antidialettico, volto a separare essenza ed esistenza, nel momento in cui pone la sua tesi, essendo una tesi questa negativa, alla fine del percorso non potrà che autonegarsi per riaffermare ciò che invece ponendosi negava. Cioè, appunto, questa impostazione antidialettica della filosofia moderna, tipicamente kantiana, nella sua conclusione, dice Bontadini, negherà se stessa e in quanto questa posizione andava a negare l'identità di essenza ed esistenza, di linguaggio, realtà, di pensiero ed essere, autonegandosi non potrà che riaffermare, alla fine del percorso, la grande verità affermata dai greci e da Tommaso, secondo la lettura bontadiniana, cioè l'identità di essenza ed esistenza. Ecco allora che secondo questa lettura tomistico-hegeliana di Bontadini, l'antidialettica kantiana non può che sfociare nella dialettica hegeliana, cioè in un ritorno al grande pensiero classico e medievale cristiano. Proprio in quanto momento contraddittorio, questo momento negativo incarnato su un piano metafisico da Kant, non può che autonegarsi per riaffermare la verità della metafisica classica e cristiana, in particolare tomista. Ecco però che questa negazione del momento negativo kantiano della metafisica, e quindi conseguente rinascita della metafisica, passa per Kant, cioè Kant da un lato rappresenta il momento negativo antidialettico nella storia della metafisica, dall'altro però secondo questa lettura hegeliana è proprio attraverso Kant che noi possiamo ritornare ad affermare la metafisica. Kant va superato ma al contempo va conservato, in Kant ci sono gli elementi negativi da superare tipici della metafisica moderna, Kant rimane il filosofo della separazione di essenza e di esistenza, ma in Kant si trovano anche già i germi della dialettica che vanno fatti appunto maturare, sviluppare. A partire da Kant si può far rinascere la metafisica, in quanto Kant è un giano bifronte antidialettico ma al contempo Kant prepara già il terreno della dialettica, cioè della rinascita della metafisica. Scrive ancora Bontadini dopo Kant non si poteva più sostenere che fosse possibile fare metafisica. Cioè Kant è il filosofo che in virtù della sua posizione negativa antidialettica ci dice dobbiamo separare essenza ed esistenza, pensiero ed essere, linguaggio e mondo, per questo non possiamo più fare metafisica. Cosa significa fare metafisica? Significa far parlare le cose stesse, conoscere con verità, in modo scientifico il mondo. Kant in quanto momento negativo della metafisica nega la possibilità di sviluppare un sistema della scienza, una dottrina della scienza. Kant rappresenta in grande, cioè a livello della storia della metafisica nel suo complesso, ciò che in piccolo, cioè nel pensiero classico greco, è rappresentato dai sofisti, in particolare da Gorgia. Kant è il momento negativo, come i sofisti nella Grecia classica sono il momento negativo che separano pensiero ed essere, linguaggio e mondo, se anche qualcosa fosse non potrebbe essere conoscibile e se anche qualcosa fosse conoscibile non potrebbe essere comunicabile agli altri, diceva il vecchio Gorgia. Ebbene, questo momento negativo del pensiero classico è riproposto da Kant in generale alla filosofia moderna su un piano più generale che prende in considerazione tutta la storia della filosofia. Secondo questa lettura hegeliana, che grande importanza ha avuto, Kant è appunto questo momento negativo. Kant come novello Gorgia. E però Kant non è solo ciò, Kant non è solo il momento negativo, ma Kant è anche dialettica. Kant ci dice da un lato bisogna mantenere separata essenza ed esistenza, ma dall'altro Kant ci dice non possiamo rassegnarci a tenere separata essenza ed esistenza. Da un lato antidialetticamente Kant ci dice non possiamo non tentare di realizzare l'identità di linguaggio e mondo, di essenza ed esistenza, di pensiero ed essere. Ecco che Kant è il filosofo della negazione della metafisica e per questo va superato, ma al contempo Kant sente come pressante l'esigenza di negare la negazione della metafisica per riaffermarla. È impossibile ma ci dobbiamo provare. Questa è l'istanza metafisica, solo potenziale, ma comunque tematizzata nelle opere di Kant, già nella critica della ragione pura, per non parlare poi nella critica della ragione pratica. Ecco che Kant va superato per riaffermare in atto l'identità di essenza ed esistenza, per far parlare le cose stesse, per fare metafisica, ma al contempo proprio da Kant bisogna partire per poter riaffermare appunto la metafisica come scienza. Già Fichte aveva visto in Kant queste due facce, il Kant antidialettico e il Kant dialettico. Già Fichte rimprovera a Kant di avere separato il sistema, il sistema della scienza, la metafisica positiva, la dialettica, dalla propedeutica, dalla critica. Kant separando sistema e critica, dice Fichte, rimane invischiato in un momento negativo che lo relega nel più infecondo scetticismo. Dall'altro però Fichte per invece affermare una metafisica positiva che cosa fa? Parte da Kant, non è un rifiuto totale di Kant. Perché? Perché Fichte comprende che a fianco a questa istanza antidialettica in Kant c'è anche un'istanza dialettica da far maturare. E d'altronde lo stesso Kant replicherà a Fichte nel 1799 scrivendo non riesco proprio a capire come mi si sia potuta attribuire l'intenzione di dare soltanto una propedeutica alla filosofia trascendentale, cioè appunto una critica della ragione e non il sistema stesso di questa filosofia. Kant è ambiguo, è ambiguo nei suoi scritti. Da un lato sembra effettivamente che la critica della ragione pura, speculativa e pratica sia solamente una propedeutica. Dall'altro sembra invece che questa critica consista nello stesso sistema della scienza. Non si capisce se questo sistema della scienza possa essere effettivamente sviluppato, così da uscire dallo scetticismo. O se invece Kant si rinchiuda nell'impossibilità di far parlare le cose stesse rimanendo vincolato appunto ad una mera propedeutica, ad un a priori sterile sia su un piano teoretico sia su un piano pratico. Anche la morale kantiana è assolutamente sterile, osserverà Hegel. Ma al contempo bisogna partire proprio dalla morale kantiana per sviluppare una eticità positiva. Ecco qui il rapporto che la metafisica post-kantiana ottocentesca ma anche novecentesca ha con Kant. Kant come regressivo, scettico, anti-metafisico, anti-dialettico, ma al contempo Kant come fonte della dialettica, come fonte della possibilità di una emancipazione, dello sviluppo di una nuova metafisica. Questo Kant anti-dialettico, regressivo, anti-metafisico verrà individuato anche dalle pagine di dialettica dell'illuminismo che vedono appunto in Kant l'anti-dialettico che separa io e mondo, essenza ed esistenza. Il mondo, secondo la lettura che di Kant dà dialettica dell'illuminismo, il mondo è per Kant qualcosa che va dominato, assoggettato. Il soggetto kantiano per dialettica dell'illuminismo non è dialetticamente il mondo, l'essenza irrimediabilmente è altra dall'esistenza. E questo soggetto kantiano, altro dal mondo, è colui che domina il mondo, intendendolo sempre come estraneo a sé, come qualcosa da dominare, da asservire, ma mai da riconoscere. Questa è l'istanza profondamente anti-dialettica che il soggettismo kantiano implica secondo la lettura idealettica dell'illuminismo. Kant cioè come filosofo della scissione, come filosofo dell'intelletto astratto e non della ragione sintetica. E questo è il Kant che ritroviamo già nella prefazione alla fenomenologia dello spirito di Hegel. E tuttavia Kant replica che vuole fare della metafisica, una metafisica come scienza ed esalta nelle pagine della critica della ragione pura quello spirito di sistema che grazie a Wolf non è ancora morto in Germania, scrive Kant. Insomma Kant è questo enigma, c'è un Kant dialettico, metafisico, condizione di possibilità della rinascita della metafisica dopo il momento negativo moderno. E c'è invece un Kant antidialettico, tipico prodotto della modernità. Per far parlare le cose stesse, per fare un sistema della scienza, una dottrina della scienza, bisogna superare Kant, ma al contempo conservarlo. Kant non è Hume, in Kant non c'è solamente distruzione, solamente negativo, ma c'è anche la possibilità dell'emancipazione. E questa ambiguità kantiana è bene individuata ancora una volta nelle pagine di dialettica dell'illuminismo, quando Alckheimer e Adorno scrivono in modo molto significativo. I concetti di Kant sono equivoci, ecco questa equivocità di Kant che da un lato apre all'emancipazione e dall'altra è regressione. La ragione, scrivono Orckheimer e Adorno, come io trascendentale superindividuale implica l'idea di una libera convivenza degli uomini, in cui essi si costituiscono a soggetto universale e superino il dissidio tra ragione pura ed empirica nella consapevole solidarietà del tutto. Ma insieme la ragione rappresenta l'istanza del pensiero che organizza il mondo ai fini dell'autoconservazione e non conosce altra funzione che non sia quella della preparazione dell'oggetto da mero contenuto sensibile a materiale di sfruttamento. Ecco, molto bello questo passo di dialettica dell'illuminismo che vede appunto in Kant il filosofo dell'ambiguità. Da un lato il filosofo che separa mondo e Dio, il filosofo che vede nel mondo qualcosa di altro da soggettare senza riconoscere come parte di sé, ragione calcolante, dall'altro però Kant intende anche il soggetto come universale, il soggetto come riconoscimento dell'altro da sé, è come parte di sé, dando appunto avvio, spargendo i semi che possono portare appunto alla emancipazione, cioè alla riproposizione di una metafisica come scienza, identità di essenza di esistenza. Dicono qui Orkheimer e Adorno, in Kant da un lato c'è il pensiero calcolante che sfrutta l'altro senza riconoscerlo come sé, dall'altro però in Kant c'è la consapevolezza che il soggetto universale possa porsi come condizione di possibilità della solidarietà del tutto. Questa è l'ambiguità kantiana, Kant come giano di fronte, Kant dialettico, Kant antidialettico e questa ambiguità tutta kantiana rappresentata dalle posizioni ambigue sviluppate dallo stesso Kant in riferimento per esempio alla metafisica. La metafisica da un lato è considerata da Kant come un oceano tenebroso, un abisso senza fondo, senza sponde e senza fari, qualcosa di oscuro che non è realizzabile. E dall'altro però Kant si dice innamorato della metafisica, la metafisica è l'unico lume. Da un lato la metafisica non si può realizzare come scienza, è senza fari, è buio, dall'altro non si può non cercare di realizzarla, si deve cercare di realizzarla anche nell'impossibilità di poterla realizzare. Perché la metafisica da un lato abisso, buio, senza fari, senza sponde, senza fondo, dall'altro è l'unico lume. Ecco per cercare di tematizzare in modo un po' più articolato, più circostanziato, queste due anime kantiane, quella antidialettica e quella dialettica, vorrei prendere in considerazione due passi tratti dalla critica della ragione pura, che ci danno ragione appunto di queste due anime, l'una antidialettica, l'altra dialettica del pensiero kantiano. Partiamo dal kant antidialettico, dal kant che separa linguaggio e mondo, essenza ed esistenza. Kant è antidialettico anzitutto nella misura in cui e nei modi in cui sviluppa la sua travagliata deduzione trascendentale dei concetti puri e dell'intelletto. La deduzione delle categorie in Kant è un a priori. Kant sviluppa la sua deduzione trascendentale delle categorie mettendo da parte il mondo vero fin dal principio. Il mondo vero è qualcosa di assolutamente altro rispetto al pensiero che lo pensa. C'è una separazione, un oiato incolmabile tra le categorie a priori e il mondo vero. Se la metafisica, se in Hegel le categorie sono ricavate dal mondo, non c'è distinzione tra la soggettività trascendentale e il mondo nel suo sviluppo, nella sua articolazione, in Kant la deduzione delle categorie prescinde totalmente dal mondo vero. Questo punto è posto bene in tema in modo molto evocativo da Nietzsche quando nel Crepuscolo degli Idoli ci racconta di come il mondo vero finì per diventare favola. Dice Nietzsche da principio il mondo vero coincideva con l'uomo saggio. Socrate è l'uomo saggio, è l'uomo della dialettica e coincide con il mondo vero, dice Nietzsche. Successivamente invece questo mondo vero, questo antico sole, dice Nietzsche, si perde dietro alle nebbie nordiche che significano scetticismo, che significano antidialettica, che significano separazione di essenza ed esistenza. Scrive Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli l'idea sublimata pallida nordica, Königsbergiana. Königsberg è appunto la città natale di Kant. Kant è il filosofo della nebbia nordica, dietro la quale si perde il luminoso sole che è il mondo vero. Cioè il pensiero è qualcosa che non si riconosce più nel mondo. C'è una separazione del mondo e del linguaggio che dice il mondo. Nessuno mi può garantire che il linguaggio che dice il mondo, che per Kant è il linguaggio della meccanica newtoniana, nessuno mi può garantire che il linguaggio che dice il mondo coincida con il mondo stesso. Ma fare metafisica significa proprio far parlare le cose stesse, identificare pensiero ed essere. In Kant invece c'è questo iato incolmabile tra il linguaggio e il mondo. Questa separazione di linguaggio e mondo, questa istanza tipicamente antidialettica che pone uno iato incolmabile fra l'essenza e l'esistenza, la troviamo ben tematizzata in un passo chiave della dialettica trascendentale della critica della ragione pura, in particolare nel capitolo intitolato l'ideale della ragione pura, dove Kant, tra le altre cose, se la prende con la prova ontologica dell'esistenza di Dio. La prova ontologica si basa su un argomento a priori che è il seguente, dice l'argomento ontologico Dio è quell'ente la cui essenza implica l'esistenza, cioè in Dio essenza ed esistenza sono la stessa cosa. Ripeto, dialettica, metafisica significa identificare pensiero ed essere, linguaggio mondo, essenza ed esistenza. Cioè secondo la prova ontologica chiedersi che cosa è Dio, essenza di Dio appunto, significa rispondere Dio esiste, esiste per essenza, essenza ed esistenza sono tutt'uno. Dire Dio significa farlo esistere perché esistenza ed essenza sono la stessa cosa. Cioè l'esistenza di Dio è un suo predicato e in particolare è il predicato contenuto analiticamente a priori nel soggetto. Dire Dio esiste è come dire il triangolo ha tre angoli, è un giudizio analitico a priori, il predicato è contenuto in modo analitico nel soggetto, ma se l'esistenza di Dio è contenuta analiticamente nel soggetto Dio, significa che dire Dio esiste significa riconoscerne l'esistenza. Ebbene, un pensiero radicalmente, compiutamente metafisico come per esempio quello eugeliano, applica la prova ontologica, ossia l'identificazione a priori di essenza ed esistenza non solo a Dio ma a qualsiasi ente. Ogni ente esiste per essenza. Un dialettico radicale, un metafisico radicale applica la prova ontologica a qualsiasi ente. Ogni ente esiste per essenza. Ciò non significa implicare a priori un determinismo. L'essenza di un ente può essere quella di esistere in modo non necessario. Però certamente ogni ente è se stesso, per essenza è identico alla sua esistenza. Ecco, Kant confuta questa identificazione di pensiero ed essere, di linguaggio mondo, di essenza ed esistenza, in riferimento non solo agli enti sensibili, ma anche a Dio. Kant, nella dialettica trascendentale, in particolare nel capitolo dell'ideale della ragione pura, se la prende appunto con l'argomento ontologico. Per Kant, per nessun ente, nemmeno per quell'unico ente privilegiato che è Dio, vale l'argomento per il quale a priori essenza ed esistenza sono tutt'uno. Per Kant la separazione eminentemente antidialettica di essenza ed esistenza riguarda ogni ente, Dio compreso. E perché? Perché, dice Kant, e questo è un principio metafisico antidialettico fondamentale sviluppato da Kant proprio nella dialettica trascendentale, dice Kant, l'essenza non è un predicato. Non è mai possibile sviluppare una metafisica come scienza, cioè identificare essenza ed esistenza, già che l'esistenza non è un predicato e in quanto non è un predicato non può essere mai contenuto analiticamente nel soggetto. Cioè, l'argomentazione kantiana molto acuta è questa. Riporto testualmente un passo tratto dalla dialettica trascendentale. Dice Kant, se dico Dio è oppure vi è un Dio, non aggiungo alcun nuovo predicato al concetto di Dio, appunto perché l'esistenza non è un predicato. Bensì pongo soltanto il soggetto in sé stesso, con tutti i suoi predicati. Vale a dire, l'oggetto in relazione al mio concetto. Cioè, qui dice Kant davvero il principio fondamentale dell'antidialettica. Il concetto di Dio, dice Kant, ha predicati, per esempio posso dire che Dio è buono, è uno, è onnipotente eccetera, ma l'esistenza non è un predicato. Non è un predicato di Dio, così non è un predicato di nessun ente. L'esistenza è diversa dall'essenza e non è un predicato. Se affermo l'esistenza di Dio, non aggiungo nulla ai predicati che costituiscono il concetto di Dio. E l'esempio celeberrimo che fa Kant è quello dei cento talleri, delle cento monete, no? Il concetto di cento talleri reali non contiene nulla di più rispetto al concetto dei cento talleri solamente pensati, solamente possibili. E questo perché? Perché l'esistenza non è un predicato. L'esistenza è invece un quantificatore, non un predicato, potremmo dire. È stato detto così sulla scorta proprio di Kant. Cioè, esistenza è un quantificatore. L'esistenza può essere parafrasata in questi termini. Esiste una X tale per cui X ha i suoi predicati. Non so, nel caso di Dio la X avrà i predicati dell'essere buono, uno, onnipotente, eccetera, eccetera. Ma l'esistenza non è tra i predicati. L'esistenza appunto è il quantificatore che lega a sé la variabile con i suoi predicati. L'esistenza non è un predicato, è il quantificatore. Ecco, Kant in un passo molto molto lucido della critica della ragione pura scrive Se io penso una cosa con i predicati che voglio e quanti ne voglio, cioè attribuendo la cosa a tutti i suoi predicati, qualora soggiunga ancora che questa cosa è, con questo non aggiungo assolutamente nulla alla cosa. Ma, appunto, l'esistenza non è un predicato. E poi conclude Kant, in caso contrario, infatti, non esisterebbe la stessa cosa che avevo pensato nel concetto, ma qualcosa di più. E io non potrei dire che esiste, appunto, l'oggetto del mio concetto. Qui Kant è assolutamente geniale, perché se io penso appunto ai miei cento talleri, dice Kant, e l'esistenza fosse un predicato che si aggiunge al concetto dei cento talleri, i cento talleri reali sarebbero diversi rispetto ai cento talleri pensati, in quanto avrebbero un predicato in più, avrebbero una proprietà in più che io non posso pensare. In realtà i cento talleri reali sono esattamente i cento talleri pensati come numero di proprietà che hanno. Ciò che cambia è che l'uno esiste, l'altro che non esiste, ma appunto l'esistenza, non è un qualcosa che si aggiunge come predicato, ma è un quantificatore esistenziale che lega se è la X che ha i suoi predicati e che può esistere oppure non esistere. Ma ripeto, esistenza o non esistenza non è un predicato. A tal proposito Feuerbach, in un bellissimo libretto che si intitola Principi di filosofia dell'avvenire, riprende questo esempio kantiano dei cento talleri che era stato criticato da Hegel. Perché Hegel critica l'esempio dei cento talleri? Perché in Hegel essenza ed esistenza è la stessa cosa. Kant invece dicendoci che i cento talleri pensati e i cento talleri reali sono qualcosa di assolutamente diverso, non in riferimento ai predicati che ineriscono al concetto e ai cento talleri reali, che sono gli stessi, ma perché appunto l'uno esiste e l'altro non esiste, esiste solo il pensiero, c'è una separazione radicale tra ciò che pensa e ciò che esiste. Ebbene Kant ponendo questa separazione, questo iato incolmabile tra i cento talleri pensati e i cento talleri reali, va a negare l'identità di linguaggio e mondo di essenza ed esistenza e quindi va a negare la possibilità di realizzare quella metafisica che invece Hegel voleva affermare. Ecco Feuerbach riprende l'esempio dei cento talleri e sta dalla parte di Kant. Scrive Feuerbach, per quanto disprezzato da Hegel, l'esempio dei cento talleri immaginali e dei cento talleri reali, scelto da Kant a proposito della prova ontologica per dimostrare la distinzione tra il pensiero e l'essere, è un esempio essenzialmente giustissimo. E in vero, i talleri immaginari io li ho soltanto nella testa, quelli reali li ho in mano, quelli sono soltanto per me, questi sono anche per gli altri. In Hegel, alla fine del processo, il per me e per gli altri, è identico. L'idea in sé, l'idea alienata, è alieno solamente da una prospettiva astratta, ancora inconsapevole di sé. In realtà ogni in sé è sempre un per me, un in sé e per sé, per Hegel. Mentre appunto per Kant come per Feuerbach c'è questa separazione tra l'essenza e l'esistenza, tra ciò che è per me, pensiero, e ciò che è in sé, essere. E possono essere sentiti e veduti i talleri reali, dice Feuerbach, a differenza di quelli che sono solo per me. Ora, conclude Feuerbach, è un fatto che esiste soltanto ciò che è nello stesso tempo per me e per gli altri, quello su cui io e gli altri possiamo accordarci, quello che non è soltanto mio, ma di tutti. Cosa replicano a questa impostazione kantiano-foyerbachiana i metafisici? I metafisici replicano l'esistenza, è vero, non è qualcosa che si aggiunge come un predicato, per il semplice fatto che l'esistenza è una cosa analiticamente implicita in ogni cosa, una cosa anche se solamente pensata, è sempre una cosa esistente, la sua essenza implica il fatto di esistere come cosa pensata. Una cosa per essere pensata deve essere appunto compresa e per essere compresa deve in qualche modo esistere nei modi e nei limiti in cui esiste. Questo è il principio del platonismo, che sarà poi il principio del legalismo, il principio della fenomenologia. In mezzo a queste posizioni volte ad identificare essenza ed esistenza, c'è Kant, che invece separe in modo molto convinto essenza ed esistenza. Quindi su questo fronte Kant è assolutamente antidialettico, su questo esempio di Cento Talleri. Ora però vorrei riportare un altro esempio, tratto sempre alla critica della ragione pura, in cui Kant si rivela essere assolutamente dialettico, sentire l'esigenza di non fermarsi alla separazione essenza ed esistenza. Cioè per Kant da un lato rimane fermo sul punto, essenza ed esistenza sono due cose separate e lo iato fra le due è incolmabile, a differenza che nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Ma Kant al contempo sa che non ci si può arrestare a questa separazione, dialetticamente, anche se questa separazione antidialetticamente è incolmabile, non si può colmare il fossato che separa le due. Cioè essenza ed esistenza sono separate, ma al contempo non possiamo non cercare di intenderle come identiche, anche se è impossibile intenderle come tale. Questa è la mossa dialettica che ritroviamo già in Kant e che verrà coltivata in modo molto serio già a partire da Fichte, il quale esalterà questo aspetto dialettico di Kant, criticando invece l'aspetto antidialettico. Quindi vediamo che in Kant da un lato c'è l'antimetafisico, dall'altro però la rinascita della metafisica passa per alcuni momenti dialettici proprio dello stesso discorso kantiano. Vediamo questa ambiguità profonda di Kant che appunto era stata bene messa in luce soprattutto da Orkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo. Bene, parliamo quindi di questo Kant dialettico. Per Kant la metafisica è ciò che ci porta ad un punto limite. La metafisica è pensiero al limite. Se la fisica newtoniana ci parla del mondo entro appunto i limiti del linguaggio, si occupa di ciò che sta entro questi limiti, il mondo naturale organizzato in una struttura spazio-temporale dominata dalla causalità, la metafisica in quanto pensiero al limite ci porta a ridosso dei limiti del linguaggio della scienza naturale newtoniana. A tal proposito Kant ci parla nei prolegomeni di un limite inteso in senso negativo che ci impedisce di conoscere gli oggetti metafisici. L'oggetto è sempre entro un certo limite. L'oggetto è determinato da quel giudizio determinante che non è mai un giudizio metafisico ma è sempre un giudizio fisico. Dall'altro però Kant, dopo aver posto questo limite negativo che tematizza un discorso, il discorso newtoniano, appunto il discorso della fisica newtoniana, che ci parla del mondo sempre mediato da essenze, da categorie a priori che ci danno appunto il mondo così come appare mediante le categorie a priori, quindi che non fa parlare il mondo stesso, il mondo vero. A fianco di ciò però Kant ci parla anche di un limite in senso positivo, cioè da un lato dobbiamo riconoscere questa separazione tra essenza ed esistenza, tra un discorso che parla del mondo così come appare e il mondo vero che sta dietro, dall'altro però, ci dice Kant, non possiamo non pensare razionalmente ad una identificazione di essenza e di esistenza, cioè di far parlare il mondo vero e non appunto una mera rappresentazione. Ci parla appunto al fianco di un limite in senso negativo di un limite in senso positivo, krenzen, dice Kant. Questo limite in senso positivo ci impone di oltrepassare il limite, ma al contempo l'antidialettica kantiana ci dice che questo limite non può essere oltrepassato, ma non possiamo non volerlo oltrepassare, non possiamo fare come se potessimo oltrepassarlo. Ecco qui la tensione tra una antidialettica, scettica, volta a separare il senso ed esistenza, e una dialettica, volta a fare un sistema di metafisica, una Wissenschaftleri. c'è questa dialettica intrinseca al discorso kantiano che appunto è scisso tra una antidialettica scettica e una dialettica che vuol far parlare le cose stesse identificando il senso di esistenza. A tal proposito questa ambiguità kantiana posta nei prolegomeni in questa dialettica tra limite in senso negativo e limite in senso positivo la ritroviamo anche nella critica della ragione pura quando Kant ci parla di un noumeno inteso in senso negativo e un noumeno inteso in senso positivo. Il noumeno è l'ente intelligibile, cioè l'ente, cioè l'esistenza, intelligibile però, cioè la cui essenza implica l'esistenza. Ebbene, in noumeno, in senso negativo, è l'ente intelligibile in quanto non può essere oggetto della nostra intuizione, che in quanto intuizione sensibile non ci dà mai le cose stesse, cioè non ci può mai far colmare il fossato che separa ciò che conosco io in modo immanente e le cose stesse, il mondo esterno indipendente al pensiero. Il noumeno in senso positivo, invece, dice Kant, ammette una intuizione intellettuale che può oltrepassare il confine, che può darci le cose stesse, identità di essenza e di esistenza. Noi non possiamo avere un'intuizione intellettuale, non avremo mai un noumeno in senso positivo, ma dobbiamo fare come se questo noumeno in senso positivo ci fosse dato. Questa è l'istanza dialettica kantiana ed è questa istanza positiva che Kant propone che dobbiamo sviluppare per riportare in auge la metafisica. Questo diranno i successori di Kant. Essere dialettici in Kant significa ammettere che l'identificazione di essenza e di esistenza di linguaggio che dice il mondo e mondo si identifichino. Noi non possiamo non porre a tema questa identificazione di essenza e di esistenza, dice Kant, al contempo però questa identificazione non si dà mai. Il linguaggio per eccellenza, la fisica newtoniana, non ci dà mai il mondo vero ma ci dà solo il mondo così come è nell'immanenza della coscienza che lo conosce che è altra rispetto al mondo vero. I centotalleri pensati sono altri dai centotalleri reali. Il mondo conosciuto dagli uomini è altro dal mondo vero. È un mondo che si perde dietro le nebbie Königsbergiane, dice Nietzsche. in modo molto efficace. Nella metafisica di Aristotele, di Tommaso, poi di Hegel, di Husserl, questa separazione tra il mondo come appare e un mondo vero che sta dietro viene meno, è assolutamente insensata, inutile. Kant invece non sa uscire da questa distinzione ma ci dice non possiamo non cercare di oltrepassarla. non possiamo non cercare di fare un uso positivo del numero, di valicare il confine. Kant, pur non facendo venire meno questa distinzione tra essenza ed esistenza, ci dice che non possiamo non cercare di scontrarci con questo confine. ecco qui, la metafisica in Kant effettivamente è impossibile ma al contempo non si può rinunciare a volerla porre in atto positivamente. Ecco, questo è il discorso che Kant sviluppa in un capitolo molto interessante dell'analitica trascendentale la critica alla visione pura che si intitola sul fondamento di tutti gli oggetti in generale in fenomena e numero. Qui si vede proprio l'istanza tipicamente dialettica metafisica di Kant. Qui Kant tiene si ferma la separazione di linguaggio e mondo la deduzione trascendentale delle categorie è a priori è alta dal mondo appunto ma al contempo ci dice Kant questa separazione non può essere accettata. Si vuole invece flessibilità si vuole permeabilità si vuole appunto dialettica si cerca di colmare il fossato di colmare questo iato che però per Kant è incolmabile antidialetticamente che separa essenza ed esistenza ci dice Kant la conoscenza che ho del mondo che mi è data dalla fisica newtoniana secondo l'impostazione kantiana è da intendere come un'isola come un territorio il territorio dell'intelletto del pensiero che è un'isola con dei limiti immutabili e che è circondata da un vasto oceano tempestoso immerso nella nebbia che dà sagome mai conoscibili davvero illusorie ecco che ritorna qui la nebbia kenigsbergiana tematizzata da Nietzsche ecco il terreno dell'intelletto questo terreno stabile questa isola stabile sulla quale appunto possiamo costruire degli edifici fondati possiamo conoscere in modo oggettivo il mondo è dice Kant il terreno sul quale si può edificare è appunto il terreno dell'essenza del pensiero questo pensiero stabile intellettuale è l'unico pensiero stabile se esci da quest'isola stabile e ti addentri nell'oceano tempestoso avvolto nella nebbia fai naufragio perdi la ragione non puoi più conoscere nulla e tuttavia ecco qui l'istanza dialettica kantiana non puoi non addentrarti questo terreno stabile sul quale si può edificare non ti basta se ti addentri oltre quei limiti stabili fai naufragio non edifichi più nulla trovi solo la morte e tuttavia dice Kant dialetticamente e tuttavia non puoi non cercare di varicare quei limiti stabili quel terreno solido sul quale ti puoi edificare non basta scrive Kant sebbene queste regole dell'intelletto non siano soltanto vere a priori ma siano anzi la fonte di ogni verità cioè dell'accordo della nostra conoscenza con gli oggetti oggetti che però sono sempre solo immanenti nella coscienza nessuno ci può garantire che siano le cose stesse appunto tuttavia non ci sembra sufficiente che si esponga semplicemente ciò che è vero ma anche ciò che si desidera sapere ciò che semplicemente è vero e questa è la verità appunto dell'intelletto astratto non basta attraverso l'uso pratico della ragione si può realizzare un nuovo mondo si scopre che quel mondo non è esterno a noi e che la deduzione delle categorie non è un a priori ma è un a posteriori attraverso l'esercizio pratico della ragione si valicano questi confini si fa naufragio ma questo fare naufragio ci porta ad agire nel mondo e ad intendere il mondo come qualcosa che non è più esterno a noi meramente dominabile ma è qualcosa che è riconosciuto come nostro questo è l'impostazione dialettica che si viene solo accennata in Kant perché in Kant domina comunque ancora la parte negativa ma che è proposta vorrei concludere quindi citando un passo tratto dalla critica della ragione pratica in cui viene proprio esplicitata questa volontà dialettica di agire in modo pratico cercando di colmare il fossato che separa essenza ed esistenza perché questo iato non puoi non volerlo colmato anche se non lo puoi colmare ecco questa commistione di dialettica e antidialettica nel discorso kantiano leggiamo quindi questo passo per concludere tratto dalla critica della ragione pratica scrive Kant l'uso teoretico della ragione si occupa di oggetti della pura facoltà conoscitiva e la sua critica riguardante quest'uso colpiva propriamente solo la facoltà pura della conoscenza questa infatti suscitava il sospetto in seguito confermato di perdersi facilmente al di là dei propri confini tra oggetti irraggiungibili o addirittura concetti tra loro contraddittori cioè su un piano teoretico io non posso varcare gli orizzonti della mia coscienza non posso arrivare ad identificare essenza ed esistenza perché se valico i limiti della mia coscienza e voglio conoscere ciò che trascende la mia conoscenza immanente cado in contraddizioni non si può fare metafisica la metafisica è contraddittoria non posso mai far parlare le cose stesse ma solo le cose come appaiono mediante le categorie a priori che appunto non appartengono al mondo diversamente continua però Kant stanno le cose nel caso dell'uso pratico della ragione in questo la ragione si occupa dei fondamenti di determinazione della volontà la quale è una facoltà o di produrre oggetti corrispondenti alle rappresentazioni o di determinare se stessa cioè la propria causalità a cercarli basti poi o no la capacità fisica a raggiungerli qui infatti la ragione può pervenire perlomeno alla determinazione della volontà e pertanto ha sempre una realtà oggettiva per quel che riguarda semplicemente il volere dunque la prima questione è la seguente se la ragione pura basti da sola a determinare la volontà o se essa possa costituire un fondamento di determinazione solo in quanto empiricamente condizionata ora qui interviene un concetto di causalità giustificato dalla critica della ragione pura anche se incapace di esibizione empirica e cioè la libertà e se ora possiamo trovare qualche ragione per dimostrare che questa proprietà appartiene effettivamente alla volontà dell'uomo e così pure a quella di ogni essere razionale allora non soltanto sarà mostrato che la ragione pura può essere pratica ma che essa sola e non la ragione empiricamente limitata è incondizionatamente pratica qui canta addirittura sbilancia tutto il suo discorso in favore della ragione pratica proprio perché la ragione pratica è la ragione dialettica la ragione propriamente razionale a differenza della ragione speculativa che è intellettuale astratta ma per esercitare l'intelletto la ragione regressiva se presa astrattamente appunto l'intelletto bisogna sempre agire in un contesto di sistema della scienza in un contesto metafisico la libertà è il grimardello attraverso il quale si dà l'identificazione di essenza ed esistenza ed è sulla base di questo sistema generale della libertà questo regno dei fini che possiamo agire in termini astratti intellettuali tenendo ferma la separazione di essenza ed esistenza di essenza di essenza di essenza Grazie a tutti